Sopralluogo del sindaco di Ragusa Federico Piccitto era a Marina di Ragusa nei nuovi locali in cui verrà trasferito l'ufficio postale. Il primo cittadino, oltre a verificare lo stato di avanzamento dei lavori previsti, ha ricevuto rassicurazioni sulla piena operatività di nuovo ufficio prevista entro la prima decada di aprile. Piccitto, durante il sopralluogo, ha anche ribadito al responsabile della filiale delle poste la piena disponibilità di ospitare temporaneamente l'ufficio presso la delegazione di Marina, limitando così gli eventuali disagi per gli utenti durante il periodo di attesa. Per il dirigente delle poste però si tratta di un'ipotesi non praticabile in quanto l'attivazione di una nuova rete richiederebbe un tempo di attesa quasi identico rispetto alla conclusione dei lavori per i nuovi uffici, annullando di fatto ogni beneficio per i cittadini. Alla luce di questa considerazione allora si è deciso di mettere a disposizione presso la delegazione della frazione un automezzo del settore servizi sociali che consenterebbe il trasporto degli utenti impossibilitati o comunque senza mezzi propri presso gli uffici postali a Donnalucato, Santa Croce e Camerina. Il servizio sarà attivo tutte le mattine in attesa ovviamente che vengano consegnate al più presto i nuovi uffici postali.